Move Education Move Education Move Education è il servizio che progetta e coordina le attività educative nelle 11 sedi della Fondazione Musei Civici di Venezia. Un immenso patrimonio culturale con oltre 700.000 oper d'arte, più di 2 milioni di reperti scientifici, 5 biblioteche specialistiche ed un archivio fotografico. Un sistema museale ricco, articolato, complesso che Move gestisce, tutela e valorizza. Avvicinare i giovani al contesto museale attraverso il coinvolgimento emotivo. Stimolare lo sviluppo di intelligenze multiple. Potenziare capacità creative, estetiche ed espressive attraverso linguaggio visivo, corporeo e musicale. Approfondire conoscenze naturalistico-scientifiche attraverso l'osservazione, la discussione, il confronto e la sperimentazione. Incoraggiare il pensiero critico e divergente. Acquisire competenze trasversali per stabilire connessioni. Educare alla cittadinanza attiva. La nostra strategia si basa sul dialogo, l'interazione continua, la collaborazione, per vivere un'esperienza in modalità slow, senza fretta. è importante prendersi il tempo per osservare, contemplare e comprendere le opere dei nostri musei. Il programma di Move Education si articola in proposte che spaziano dalla storia all'arte, alle scienze, all'antropologia, con l'intento di far vivere e sperimentare il museo in un modo dinamico e coinvolgente. I percorsi attivi si svolgono interamente negli spazi espositivi, per non perdere la capacità di comunicazione e suggestione che le opere sono in grado di offrire. Propongono modalità di mediazione differenziate per fasce scolastiche e mirate al coinvolgimento emotivo di ogni partecipante. Alcune attività sono integrate da activity book, schede, letture, ascolti musicali, esplorazioni tattili. Attraverso la sperimentazione pratica, la condivisione e la cooperazione, i laboratori offrono la possibilità di comprendere attivamente, attraverso il fare, tecniche o peculiarità artistiche e scientifiche. Le attività prevedono l'utilizzo di un ambiente dedicato, appositamente attrezzato ed in piena sicurezza. Il team di Move Education svolge direttamente a scuola laboratori e attività di approfondimento. La metodologia è ispirata ai criteri della ricerca azione, in cui teoria e prassi educativa sono momenti inscindibili. L'obiettivo è proporre alle classi strumenti specifici di avvicinamento al ricco patrimonio storico-artistico, scientifico dei musei e dei valori di cui sono portatori. Allo stesso tempo vogliamo fornire un supporto formativo ai docenti per coinvolgere i ragazzi su temi all'apparenza complessi, verificando immediatamente e concretamente l'efficacia della proposta. I Move Toolkit sono una raccolta di risorse pratiche legate ai contenuti delle nostre collezioni, scaricabili gratuitamente dal sito visitmove.it ad uso dei docenti per promuovere l'apprendimento in classe con modalità diverse. Differenziate per fasce scolastiche, queste proposte si dividono in attività manuali, creative, sperimentali, di approfondimento e discussione su tematiche specifiche, sempre accompagnate da linee guida e tutorial chiari e semplici. I Toolkit forniscono inoltre connessioni interdisciplinari, risorse digitali, suggerimenti ed una ricca bibliografia per proseguire autonomamente l'approfondimento dell'argomento trattato. Accoglienza Ascolto Scoperta Partecipazione Coinvolgimento Approccio plurisensoriale Connessione Competenze trasversali Sperimentazione Ricerca-Azione Fare per capire Inclusione Dialogo interculturale Lingua Divertimento I nostri musei sono luoghi accoglienti per vivere un'esperienza unica in un contesto di gioia e benessere. I nostri musei sono luoghi accoglienti per vivere un'esperienza unica, in un contesto di gioia e benessere. Grazie a tutti.